Il Palazzo della Prefettura, l'ex convento dell'osservanza che oggi ospita la Procura, Palazzo De Nobili, sede del Municipio, nel fine settimana del 25 e 26 marzo, le giornate di primavera del FAI aprono ai cittadini le porte delle istituzioni. Questo è un percorso molto importante perché praticamente le istituzioni si aprono al cittadino, così il cittadino potrà vedere le sale, i luoghi dove si gestisce l'amministrazione e non è soltanto la Prefettura ma anche la Procura, anche questo è uno sforzo grande da parte del Procuratore Gratteri, la Procura da poco restaurata, dove ci sono ancora, si possono vedere, le vestigia del vecchio convento, ma anche ciò che rimane dei luoghi adibiti per l'ospedale militare. È una bella occasione per far conoscere i catanzaresi luoghi storici di importanza artistica, anche normalmente inaccessibili, inaccessibili in ragione dell'attività istituzionale che vi si svolge, ma ovviamente questi ambienti sono della cittadinanza, quindi ci teniamo a che la cittadinanza possa, come dire, viverli in queste occasioni e vorrei anche, adesso partiamo con questa iniziativa del FAI, ma in futuro, in occasione di eventi istituzionali, di giornate particolari, come potrebbe essere il 2 giugno, il 4 novembre, mi piacerebbe continuare questa iniziativa. Il tema originale della manifestazione sarà Catanzaro Sottosopra, grazie al quale si potrà accedere anche ai tesori sotterranei di Catanzaro, come le gallerie di Villa Trieste, chiuse da vari decenni, le gallerie del San Giovanni e anche il tunnel della funicolare. Siamo molto felici perché questo significa far, come vuole questa amministrazione, far ritornare i cittadini protagonisti, soprattutto della propria storia, e ovviamente ci piace molto il coinvolgimento che il FAI fa con le scuole, che sarà fatto il sabato mattina, perché noi teniamo molto, soprattutto che le nuove generazioni siano parte di un percorso storico che parte veramente da lontano. Ad accompagnare i cittadini nelle visite saranno gli apprendisti ciceroni formati tra gli studenti delle scuole superiori della provincia.